3x3 75 kg all'angolo blu dalla Croazia del team Gorian accompagnato dal maestro Gorian Luca Bucas Luca Bucas, un applauso grazie e all'angolo rosso della Doria Boxing Team accompagnato dal maestro Gorianone Davide Saini Davide Saini 1x5 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 2x5 2x5 3x5 Prima ripresa! Prima ripresa! Prima ripresa! Prima ripresa! Prima ripresa! No, no, no. Grazie. 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 Fuori in seconda. Seconda ripresa. Sì! Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.